e chiudi bene tutte le porte edgar si caro ho pensato a tutto edvige sbreghiamo ci faremo tardi al garden party una cosa che edgar ha dimenticato è la finestra ripulirò questa casa in 448 andiamo stelle sperimenteremo subito il nostro nuovo metodo di vendita che cosa vendiamo holly? tutto non importa cosa grazie a questo libro intitolato i segreti del perfetto venditore non potremo fallire adesso faremo la prima vendita come posso lavorare sediamente se mi si disturba in continuazione? che volete? buongiorno signore allora fate presto noi rappresentiamo fuori dai piedi c'è rottano per ora sono occupato oh no non te ne andare ritorna qui non si può certo dire che abbia avuto il tempo di mostrare le mie capacità ora tocca a te e non dimenticare che il sorriso è il migliore degli argomenti oh siete ancora voi mi disturbate nel mio lavoro e questo non mi piace non mi piace affatto e ora fuori dai piedi ci hai di nuovo cacciato in un bel pasticciotto devo sempre risolvere ci sto io come al solito grazie olly non ne parliamo più in questo manuale è scritto che è sempre utile mettere un piede in casa in altre parole non appena apre la porta metti il piedino dentro subitissimissimo corrGio stelli mi metti il piede dentro ahi ei ahi ohioi mamma è il lavoro stelli abbiamo il piede dentro la casa mi fa tanto luminosi resisti ancora un momentino che leggo il seguito aiuto sono sicuro che apprezzerà questa presa di karate Dunque qui dice, se vi oppongono a una forte resistenza, ritirate il piede e revisionate la vostra strategia Bene, ritira il piede, Stanley Bravo E d'ora in poi cerca di evitare queste familiarità Sono desolato, Ollie, ma non è colpa mia E adesso dovrei potermi rimettere al lavoro Il cliente è in uno stato di sorpresa ed è più ricettivo quando si passa dalla porta di dietro Questa la chiami revisionare la strategia, o? Esattamente, Stanley E così il pianoforte è già fuori casa Noi non ci dichiariamo ancora vinti, vero, Stanley? Speriamo che il vinto sia lui, Ollie, vero? Perché non mi hai detto che la porta era aperta? Ecco, volevo dire che, insomma, la porta tu eri di fronte e allora cosa... Che vi volevi dire, Ollie? Non ne parliamo più, insieme Guarda, Edwige, c'è qualcuno in casa nostra Cielo dei ladri in casa nostra! Sono tre uomini! Oh, e chiamo la polizia! Per l'ultima volta non ho bisogno di niente! Da questa parte, signori, si va al commissariato Allora, caro signore, come le dicevo, sono certo che riesca a trovare qualcosa da vendere Oh, no, ricomincia! Oh, no! Olio è formidabile, nessuno lo può fermare Aiuto! Fatevi uscire di qua! Aiuto! Aiuto! Oh, no!